Davide Petruzzelli, sono un ex paziente di linfoma, da circa 20 anni, l'anno prossimo compieremo 20 anni, gestisco e coordino le attività assistenziali di un'associazione che si chiama Lampada di Aladino, impegnata appunto a fornire dei supporti, degli aiuti alle persone che incontrano il cancro nella propria vita, quindi rivolto ai pazienti, ai caregiver, ai loro familiari. Io ci tengo sempre a portare un aspetto di cui troppo poco si parla, che è quella di una scienza laica, la scienza laica portata dai pazienti, dalle persone che vivono sulla propria pelle la malattia, che sta diventando grazie a Dio un valore aggiunto, o meglio vorrebbe diventare sempre più un valore aggiunto nel nostro sistema sanitario. Veniamo spesso chiamati come stakeholder ai tavoli di lavoro e questo 10-15 anni fa non succedeva, certo per fare questo, però per essere realmente incisivi serve essere sul pezzo, serve essere preparati, serve essere pronti. Il corso di Eupati, arrivato ormai a che ha superato la metà con la sessione di oggi, sicuramente ci sta dando degli strumenti maggiori per essere un pochino più autorevoli, anche più sereni nel nostro lavoro, quando veniamo e speriamo sempre più insomma verremo chiamati nei tavoli di lavoro, questo ci darà serenità, tranquillità e competenze probabilmente verso quello che attendere, chiamiamo insomma il ruolo del paziente esperto, insomma di chi in qualche modo ha vissuto sulla propria pelle la malattia e cerca di restituire qualche cosa in termini utili, insomma di valore aggiunto rispetto proprio all'esperienza personale.